Credo che gli si dovesse dare un'altra opportunità, perché credo in quella filosofia, credo in quel tipo di lavoro, per cui l'ho richiamato, ci siamo confrontati per due giorni, gli ho fatto presente quelli che erano secondo me gli errori del passato, ci siamo confrontati su tutto, sull'aspetto fisico, tattico, emozionale, tutto quello che c'era da sapere per essere tutti e due convinti di poter fare un buon lavoro. Mi ha dato tutte le rassicurazioni del caso in questo colloquio e ho deciso di farlo ritornare. Durata del contratto? No, no, fino a giugno, quello che era, perché credo che questo sia per tutti noi, anche per il sottoscritto. Ci sono 11 partite nelle quali dobbiamo tutti noi riacquisire, riacquistare la fiducia, la stima di Lucca e dei tifosi della Lucchese, perché ce ne siamo resi conto che effettivamente non abbiamo dato quello che la gente si aspettava. Mingazzini fuori rosa perché per motivi disciplinari. Basta, è stata... E' un provvisorio? Definitivo, poi vediamo, vediamo quello che succede. E' vero che è stato un contrasto con te, personale? Sì, assolutamente sì. Nella mia vita posso aver commesso tanti errori, però una cosa credo che sia fondamentale è il rispetto. Il rispetto dei ruoli, il rispetto delle persone, il rispetto di dove si lavora. Questo è venuto meno per una serie di... per una circostanza e ho ritenuto doveroso nei confronti del giocatore, ma soprattutto della squadra e dello spogliatoio, prendere questo provvedimento. Grazie. Grazie.